Il mio dipinto dovrà raccontare molte storie ed essere grande abbastanza da contenere il tutto. Questi mercenari stranieri in tunica rossa eseguono gli ordini dei loro padroni spagnoli. Il mio bambino era come se avesse camminato dritto fino alle porte rocciose del cielo. Io mostrerò il nostro salvatore mentre condotto al Golgotha. C'è il mulino che poggia su una roccia. Il mugnaio si limita a restare lì e guarda dall'alto senza intervenire. Egli è il grande mugnaio del cielo che macina il pane della vita e del destino.